Buonasera cari amici, oggi ho un ospite che per me è graditissima, Patrizia Casagrande, Presidente della provincia di Ancona, che io seguo da parecchi anni e sta facendo un lavoro, devo dirlo e lo dico con piacere, stupendo. Praticamente tu hai incominciato da consigliere comunale alla Senigallia, poi abbastanza presto ti hanno eletto in provincia e poi sei stato consigliere della provincia, poi hai trovato un personaggio che io stimo moltissimo, che è il Presidente Giancarli, uomo di altissima capacità ma soprattutto di altissimo livello morale, che ti ha affibbiato subito alcuni assessorati. Come hai cominciato questa carriera che poi dopo è stata talmente bella che dopo tanti tanti anni continuano a leggerti? Grazie, sono stati anni significativi quelli dell'esperienza fatta con Giancarli, sicuramente difficili anche da dimenticare, perché quando mi diede una delega così importante come quella dei lavori pubblici, dell'edilizia scolastica, alla vigilia dei trasferimenti delle competenze in tema di istruzione superiore alle province, insomma c'era da stabilire un po' il riordino degli edifici scolastici, del dimensionamento scolastico e anche ottimizzare e razionalizzare l'esistente per renderlo compatibile con le esigenze della modernità della didattica. Quindi sono stati anni importanti in cui credo che abbiamo fatto un buon lavoro sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica sia per il sistema viario, preparando anche quelli che oggettivamente sono i risultati che abbiamo colto negli ultimi anni, penso alla trasformazione della strada statale arceviese e il bypass di collegamento, il cui primo lotto è in corso e di cui abbiamo inaugurato già il primo stralcio, lo pensammo già da allora con Giancarli. Adesso parlo subito invece di cose attuali, tu ho letto e leggo sempre con molto piacere le cose che ti riguardano, ho letto e con piacere il tuo grosso successo a Catania dove rappresentava le province di tutte le Marche, perché hai avuto questo successo e per che cosa? Dunque io sono andata come Presidente del Lupi Marche, come tu dici, e l'intervento che ho fatto era sul criterio di mantenimento del valore del paesaggio, che non poteva essere disgregato con interventi che ne minavano appunto la bellezza, il paesaggio, il valore. Noi siamo in presenza di una manovra economica che taglia i trasferimenti in maniera impietosa e che costringerà, io temo, a far cassa con i servizi essenziali. Penso al ciclo completo dei rifiuti, gli obiettivi che abbiamo raggiunto e rischia invece di tornare a essere un mezzo per far cassa, quello dei rifiuti. Penso alla pianificazione territoriale di questa nostra regione che è stata mantenuta a livelli altissimi e io temo invece che si possano di nuovo vedere iniziative che portano a una feroce urbanizzazione proprio per avere finanziamenti attraverso gli oneri di urbanizzazione. Penso al tema del giorno, alla privatizzazione dell'acqua, con una preoccupazione non indifferente, non fosse che però il Presidente Spacca ci ha rassicurato tutti che qui nelle Marche non avverrà. Quindi questo, anche nella maniera semplice in cui l'ho esposto, temendo appunto che l'aggressione al valore che noi diamo al territorio potesse arrivare per far cassa, ha trovato il consenso che poi dall'applauso si è trasformato in un ordine del giorno. Senti, Marche Domani che è sempre molto attenta, i miei figli fanno un grosso lavoro su tutti gli argomenti regionali, ma sono sempre molto attenti. Hanno dato quasi una pagina ad un tuo intervento con un titolo che magari è molto forte, ma che riguarda anche il tuo carattere. Acqua e rifiuti, punto interrogativo a noi. Beh sì, insomma diciamo che… È un grido forte. Beh sì, è un grido forte. Io direi anche l'Erap a noi, perché appunto stavamo dicendo che a Catania questo aveva trovato il consenso, a noi proprietà dei comuni, gestione alle province, noi siamo gestori di un territorio d'area vasta che ha la presunzione e anche l'obiettivo ma anche il dovere di coordinare i comuni, in questo caso nel mio caso 49 comuni della provincia e metterli in condizione di vivere in rete la realtà, non duplicando magari le iniziative che possono essere legate una volta ai centri commerciali e un'altra a infrastrutture essenziali come spesso accade. Ma il mantenimento di una funzione di rete di area vasta coordinata può in qualche maniera dare un contributo anche alla razionalizzazione degli interventi. In questo caso ci sta che il problema dei rifiuti possa essere materia di cui si occupa la provincia come se ne è occupata negli anni, gli ATO potrebbero essere affidati a noi e quindi anche la tiepida accoglienza che c'è stata da parte degli organismi regionali in senso lato su questo tema va ripreso, con la regione c'è un ottimo rapporto e abbiamo già ripreso questo tema e io auspico che avvenga anche nelle altre regioni d'Italia. Per quanto riguarda l'Erap io dico che c'è una carenza di abitazioni, c'è molto invenduto e il molto invenduto ha generato anche una crisi dell'imprenditoria. Quindi io ho proposto che per un po' di tempo, un anno, due, tre, l'Erap anziché occuparsi di nuove costruzioni, possa acquisire a patrimonio Erap l'invenduto che c'è sul nostro territorio, sulla nostra provincia. Così c'è un minor consumo del suolo da una parte e dall'altra chiave in mano case, abitazioni pronte ad essere destinate ai bisognosi che purtroppo crescono. E com'è l'accoglienza di questa tua proposta? Ma in regione c'è stata subito una grande apertura, un dialogo che è iniziato e che attraverso i vari livelli di confronto poi produrrà una sintesi come è giusto che sia ascoltati anche i vari portatori di interesse, perché qui non siamo solo la provincia e la regione. A livello nazionale, nel confronto, perché qui parliamo di un'assemblea nazionale, quella di Catania, nel confronto con le altre province è una grande accoglienza che però non so come si trasferirà nei fatti, poi negli atti conseguenti, quindi io spero che trovino interlocutori attenti come abbiamo fatto noi. Io guardandoti e ascoltandoti mi pongo la domanda, viviamo in un momento nel quale tutti sono contro tutti, tutti, gli amici sono contro gli amici in certe situazioni politiche, nei partiti si dividono, non ne parliamo, perché tu riesci a avere unanimità, non so, tutte le altre province ti eleggono unanimità presidente del loro congroverato, perché? Ma guarda, io non è nemmeno poi così scontato che sempre si trovi accoglimento rispetto alle proposte che si fanno, io sono molto attenta alle opinioni degli altri, mi pongo sempre come interlocutrice e mi è capitato anche di cambiare idea, io credo che questo sia un valore, quando si è fortemente convinti di una cosa bisogna andare fino in fondo, quando si è però di fronte a motivazioni e ragionamenti che possono in qualche maniera arricchire il proprio convincimento si può attingere anche dagli altri e io credo che questo sia un valore che magari è stato colto. Tu prima che iniziassimo nella nostra chiacchierata di pochi minuti, prima del nostro intervento ufficiale, mi hai ricordato una cosa che io non ricordavo, mi hai detto che io ti avevo dato un consiglio all'inizio, lo vuoi ripetere, perché è una cosa che io non ricordavo. Ma sì, quando ci vedemmo la prima volta appena eletta tu mi chiedesti farai riunione dopo cena o farai, innoverai mettendo gli orari di una presidente donna come è accaduto in Danimarca e io mi impegnai di fronte al pubblico, agli ascoltatori che ritengo sempre molto vasti rispetto al consenso della tua trasmissione a non convocare una riunione dopo cena durante il mio mandato a meno che non fosse indispensabile. E ci sei riuscita? Sì, e fino adesso ci sono riuscita. Tra l'altro in questi giorni proprio altro grande successo di una donna, a capo di uno dei sindacati più importanti d'Europa c'è una donna, la Camusso. Sì, io sono molto contenta, la trovo una donna di grande equilibrio e di forte impatto anche carismatico, ho avuto la fortuna di incontrarla, fra l'altro è venuta qui nelle Marche due anni fa per l'assemblea di Confindustria e l'abbiamo ascoltata tutti con molto interesse proprio per la maniera che ha di porsi. Io sono molto fiduciosa nel lavoro. Che significato dai a questa elezione? Un significato di rinnovamento perché come spesso accade dobbiamo definire qual è il significato di rinnovamento che non sia legato all'età anagrafica, ormai credo che sia luogo comune, che invece sia una modalità di porsi, di far politica o in questo caso sindacato o di governare, credo pure che sia ormai luogo comune anch'esso. Il modo di porsi e i temi trattati sia nell'azione di governo che nella politica identificano se c'è del nuovo oppure se c'è sempre del vecchio. Senti, a proposito di nuovo e di vecchio, conservi sempre il gusto di andare in bicicletta? Assolutamente sì. A Senigallia che è la città dove vivo non si può non andare in bicicletta intanto perché il comune, l'amministrazione ha predisposto una bella rete di piste ciclabili e poi perché è il mezzo più comodo anche d'inverno, basta coprirsi un po'. La riottosità che ho io nel cercare parcheggi probabilmente ha influenzato la mia scelta verso la bicicletta però insomma è anche piacere, è un modo di stare all'aria aperta. A proposito di Senigallia, lei è una componente del trio delle leonesse di Senigallia, no? Infatti spiego, Senigallia, lei insieme a Silvana Amati e a Luana Angeloni formavano quello che ho chiamato il trio delle leonesse perché hanno portato Senigallia ovunque, comunque. Sì, c'è stata una bella stagione di impegno delle donne di Senigallia che non sono solo nelle tre che tu hai appena ricordato perché io voglio dare valore anche al tanto lavoro delle donne soprattutto nel associazionismo, nell'impegno quotidiano, nel volontariato e anche nella politica. Il partito di maggioranza relativo a Senigallia ha eletto due domeniche fa segretaria una donna che si è contesa il titolo con un'altra donna. Quindi io credo che ci possa essere soddisfazione a pensare che abbiamo dato un contributo anche a far crescere un'idea che la politica femminile è possibile ma anche l'impegno in generale. Il tuo temperamento l'hai dimostrato. Quando il governo ha preso queste illogiche, tremende decisioni di tagliare in periferia per salvare il centro o qualche particolare del centro e tagliando così i fondi di tutte le province, le regioni eccetera. Tu ho visto che hai reagito con certa forza. Sì, noi abbiamo sentito il dovere io per prima di comunicare ai cittadini che avranno meno servizi perché di questo si tratta. Il trasporto pubblico locale per esempio subirà un taglio inaccettabile, io dico ma purtroppo sarà così, perché i trasferimenti che vengono portati alla periferia, alla regione, alle province e ai comuni sono ridotti del 67% come l'assessore Marcolini ci ha più volte ricordato e ovviamente si inannellano di conseguenza ripercussioni che poi cadono sul cittadino. Rispetto a questo noi continuiamo alla nostra battaglia come UPI e come province e come autonomie dobbiamo assolutamente da una parte non smettere di far battaglia e dall'altra informare il cittadino. In questo senso io credo che abbiamo di fronte una stagione davvero difficile in cui l'appello normalmente è che si possano attraverso la coesione sociale mantenere quei rapporti vivi e vivaci sul territorio, ma davvero abbiamo di fronte una stagione molto difficile, molto complicata e io credo che noi non dobbiamo tacere, noi dobbiamo assolutamente dire che quello che accadrà non è perché ciascuno di noi è improvvisamente impazzito o non vuole mantenere gli impegni che ha preso in campagna elettorale o all'inizio del proprio mandato. La manovra economica, i tagli del governo sono irresponsabili con una caratteristica orizzontale senza cogliere significativamente una modalità che potesse salvaguardare alcuni aspetti che io trovo non rinviabili, che sono quelli del sociale per esempio. In questa situazione ho visto che il tuo organismo ha reagito e sta combattendo abbastanza bene. Cos'è questo grosso provvedimento dei 16 milioni che mettete in campo? Noi mettiamo in campo più di 16 milioni di euro per alcune misure che vanno nella direzione appunto di dare una mano in questo momento di grande e di forte crisi. Da una parte, dal 2008 a oggi e per il prossimo anno mettiamo in campo circa 440 borse lavoro, che sono borse che impegnano i giovani attraverso un progetto per alcuni mesi e l'obiettivo non è tanto quello di tenere impegnati i giovani per alcuni mesi a poco più di 800-900 euro. Ma la cosa più positiva è che a seguito di queste borse lavoro normalmente le persone per il 65% trovano occupazione fissa. Quindi la sperimentazione che abbiamo fatto negli anni ci dice che investire in borse lavoro significa dare un po' di respiro ai ragazzi, sollevarli dalla tenaglia che trovano nella loro famiglia e il più delle volte dar loro occupazione. Un'altra misura che abbiamo preso che riguarda questi 16 milioni di euro sono il sostegno all'aiuto alla creazione di nuove imprese che a fondo perduto consegna a chi vuole investire in un'impresa anche da mettere sul mercato con innovazione e tecnologie avanzate fino a un massimo di 20 mila euro di cui non dovrà restituire nulla. Quindi sono aiuti e misure anche per le persone svantaggiate, l'abbiamo fatto con anche fondi derivanti dalla Cari Verona. Una cosa però la voglio dire? Che questi 16 milioni di euro... Tanto è che se dicessi di nulla devresti lo stesso. Volevo dire questo, che questi 16 milioni di euro potevano essere di più se non fosse che abbiamo dovuto cedere il 30% alla cassa integrazione di cui lo Stato non si fa carico ma insieme all'Inps, l'Inps mette il 50%, noi il 30%, quindi questo 80% che viene dato ai lavoratori ci viene sottratto nella misura del 30%, lo voglio dire perché oltre ai trasferimenti mancati ci sono anche quelli mascherati che a monte ci vengono sottratti e questo va detto perché... Tanto erano pochi quegli altri quindi... Esatto, oltre al FAS che non c'è stato mai erogato, che sono fondi per le aree sottutilizzate che avrebbero potuto dare un contributo immettendo sul territorio molto risorse. A proposito di questi favolosi meriti, che in realtà questi grossi demeriti del centro, cosa pensi che quello che si legge sui giornali, che si ascolta in televisione, eccetera, avrà un seguito? C'è possibilità che si cambia il centro? Ma guarda, io la battaglia... La tua opinione personale... Sì, la mia opinione personale è che noi abbiamo bisogno di due cose fondamentalmente rispetto alla geografia, di spingere così come stiamo facendo per la macro regione adriatica, perché ci porta a misurarci in una dimensione che è alla portata per chi si realizzi e io credo che la data del 2014 entro la quale andremo a compimento sia una data congrua, dall'altra di dare un maggior valore all'Italia di mezzo, all'Italia centrale, che può diventare davvero la cerniera tra il nord e il sud in un'Italia che alla vigilia dell'unità nazionale rischia altrimenti di connotarsi per un'Italia del nord e un'Italia del sud. Noi abbiamo molti problemi nel centro Italia e abbiamo bisogno di essere vissuti come una grande cerniera, ma nello stesso tempo destinatari di risorse per far funzionare questa cerniera. Non è possibile che non abbiamo una fano grossetto ultimato che ci porta dall'Adriatico al Tirreno. È veramente fuori anche logica... Allora è solo questo? No, non è solo questo, ma è fuori veramente... La geremia sarebbe... Esatto, sì sì. Senti, stavo guardando una classifica e forse è il motivo di tutto questo che fai, che stai facendo, eccetera. Il motivo è che la gente se ne accorge. Perché ho visto che nella classifica che esce fuori ogni tanto dei vari presidenti delle province, sei passata di balzo dal 34esimo posto al 16esimo, che è un successo enorme. Vuol dire che la gente se ne accorge. Sì, io dico che è anche una grande responsabilità perché dobbiamo misurarci tutti i giorni con dei problemi che dobbiamo dimostrare non solo di essere all'altezza di affrontare, ma di risolvere. E quindi a me questo fa enormemente piacere perché vuol dire che stiamo andando anche nella direzione giusta, che è quella del rigore e del controllo della spesa. E dall'altra il soddisfacimento dei bisogni. Dare risposte concrete io credo che sia un grande valore. E questo oggi ci viene richiesto e questo oggi dobbiamo assolutamente mettere in campo. Tra i vari tentativi che ci sono, per fortuna ci sono, per resistere a questa situazione grave economica eccetera, dove dall'alto non arriva nessun aiuto, c'è la Green Economy. La provincia come vede questa nuova… Ah, molto bene, molto bene. Io aggiungerei anche che a fianco alla Green Economy dobbiamo rimettere le questioni ambientali, non solo per l'impresa, ma per la conservazione, quelle che citavo prima, del paesaggio, del valore del paesaggio, del valore della biodiversità, anche tutto quello che stiamo facendo per la questione dell'area marina protetta, penso alla propagine che io vedo naturale del Parco del Conero. Ma investire in un'economia verde, io credo, non perché l'ha detto Obama o perché qualcuno pensa che possa essere anche foriero di una moda. Io credo che sia rinunciabile. Certo, anche qui bisogna farlo bene. Ha fatto bene la Regione a prendere un'iniziativa che mette dei punti fermi sul dispiegamento del fotovoltaico sui campi agrari. Io credo che anche lì bisogna trovare il giusto che probabilmente ancora non abbiamo trovato. Ma modificare alcuni comportamenti, penso al carpooling che abbiamo fatto per le questioni del trasporto, penso alla funzione che abbiamo voluto dare alle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria, che questo comunque impone anche un maggior utilizzo di alcune buone pratiche, che sono quelle legate al sistema del trasporto pubblico, che sono quelle legate all'abbattimento anche attraverso la normalizzazione delle caldaie e adesso così declinando. penso che molte delle imprese che oggi si sono cimentate sulla green economy hanno trovato soddisfazione, non solo sul fotovoltaico, ma per esempio anche nei controlli delle caldaie, nei controlli della qualità dell'aria. Abbiamo parlato noi di questo perché abbiamo la Energy di risorse che ha fatto molto in questo campo. E fra l'altro è tra le, credo, aziende al top di ogni classifica sulla qualità dell'intervento. È veramente un piacere avere avuto, io fra l'altro nel mio piccolo come provincia noi abbiamo introdotto anche il geotermico, penso al Panzini di Senigallia, come innovazione anche rispetto a una gamma di possibilità che abbiamo per le rinnovabili. Quindi penso molto bene della green economy. Senti, tra i motori di reazione alla crisi e di contemporaneo sviluppo abbiamo il turismo. Cosa ne pensate come provincia? Come provincia abbiamo introdotto dall'inizio del mandato il sistema turistico della marca anconetana che è un sistema che mette insieme i comuni. Adesso bisognerà continuare su questo asse senza lasciarsi andare a battere magari per i costi di gestione di una fase che ha bisogno anche di essere ripresa e che momentaneamente è stata un po' accantonata. Penso che il turismo ha bisogno di alcuni volani per essere definito di eccellenza. Questi volani stanno nella nostra capacità di creare stagioni culturali, stagioni teatrali, stagioni artistiche ai vari livelli. Fino adesso ci stiamo riuscendo. Non va dimenticato, per esempio penso a Senigallia, che con gli eventi creati in San Merjamburi e Caterraduno non porta con sé solo la sua economia, ma l'economia di una vallata intera. Così come gli eventi di Ancona portano tutta la zona afferente ad Ancona e quelli della Vallesina, che anche noi abbiamo contribuito a creare, penso all'Acqua e la Memoria, penso a River, penso alla stagione fatta insieme alla biblioteca, alla fornace di Maiolati Spontini, non era solo per Maiolati, era per tutta la Vallesina. Così come le celebrazioni del Pergolesi hanno portato gente da ogni dove, quindi io credo che noi dobbiamo continuare a investire in cultura per creare quel motore di turismo, ma dobbiamo sapere che il primo biglietto da visita è il paesaggio. Le nostre eccellenze gastronomiche, le nostre eccellenze enogastronomiche poi fanno tutto il resto. Mi sei venuto in mente questi giorni perché mi ricordo che prendessi un'iniziativa per i cuccioli, per la difesa dei cuccioli, no? Siccome ho visto che in questi giorni è uscita, esce una legge sulla difesa dei cuccioli, ti ricordi quando hai, se è intervenuto addirittura se non sbaglio, in forma legale? Ma sì, in forma legale perché c'era un contrabbando illegale attraverso alcune navi che erano, una nave mi pare che era sbarcata nel porto di Ancona. Questo fenomeno del randagismo a tutti sembra un fenomeno di dettaglio. Io credo che invece sia una grande modalità di dimostrare il proprio senso civico. Io sono innamorata degli animali, ho un cane e potendo avrei anche altre compagnie in casa. Certamente però non lo faccio in base al mio sentimento. Io penso davvero che la difesa e il trattamento decoroso verso un animale sia indice di un grande senso di civiltà. E siccome io penso di non essere faziosa, attraverso il nostro assessorato all'ambiente e al randagismo abbiamo fatto sapere al Ministro Brambilla che abbiamo condiviso le sue iniziative. Senti, purtroppo ci avviamo molto rapidamente verso la fine di questa interessante trasmissione. Volevo dirti che cosa, la scuola come la vedi oggi? Beh, la scuola ha subito troppi tagli. Un Paese che vuole svilupparsi e crescere non deve tagliare né sulla ricerca né sulla scuola. Io credo che abbia bisogno invece di una nuova iniezione di energia. Se noi non investiamo nella scuola non possiamo dire che investiamo nei giovani. Chi non investe nella ricerca non può nemmeno dire cosa bisogna fare o cosa non bisogna fare rispetto a quello che è il campo della innovazione. Quindi un Paese che vuole essere all'altezza in Europa dei Paesi cui appartiene attraverso i vari macro meeting deve essere all'altezza su alcuni temi in cui invece mi pare che manchi molto di quello che io reputo investimento strategico. Come va secondo te complessivamente l'economia nella provincia? C'è qualche spivaglio di ripresa? Oggi proprio siamo reduci da una presentazione delle graduatorie che grazie alla Fondazione Merloni vengono messe a nostra conoscenza. Devo dire che il report del 2009 non è brillante come noi sapevamo che sarebbe stato. Ma che mettendo a confronto alcuni dati su quello che è stato e quello che è possibile intravedere di proiezione già i primi sei mesi del 2010 dicono che qualcosa si sta muovendo. Io credo che tutto il 2010 sia l'anno in cui qualcosa si sta muovendo, qualcosa di più si muoverà nel 2011 ma ci toccherà aspettare il 2012 per vedere qualche effetto. Questo corrisponde anche con i lavori, le risultanze, gli esami che fanno i miei ragazzi nel gruppo e sono molto attenti a tutti i fedomini che continuano a dirmi che si incomincia ad aprire qualche spiraglio di ripresa. Ma non sarà mai uno spiraglio che ci riporta agli anni prima della crisi perché i comportamenti e le abitudini, secondo il mio osservatorio, sono assolutamente in via di trasformazione, si stanno cambiando e forse non è nemmeno un male rispetto ad alcune abitudini, alcuni atteggiamenti in cui magari spendevamo più di quello che potevamo permetterci e io credo che comunque questa è un'altra cosa.